Effettuare un project financing per quanto riguarda l'ospedale e la sanità terramana significa privatizzare i servizi sanitari. Proprio per questo noi ci vogliamo vedere chiaro e come parlamentare insieme a tutti i comitati di quartiere noi combatteremo contro questa privatizzazione e contro questa speculazione. In particolare noi vogliamo trasparenza in quanto il project financing significa che il privato vuole mettere le mani sui servizi sanitari. Questa è una cosa che noi vogliamo assolutamente scongiurare insieme ai comitati di quartiere e tutti i comitati di cittadini noi combatteremo contro questa problematica e vogliamo che innanzitutto la cittadinanza si esprima poiché è importante questo e chiederemo anche all'ANAC una procedura di vigilanza poiché non vogliamo questa speculazione. Inoltre ad oggi dobbiamo dire che l'ASL non ha fornito alcun indirizzo al responsabile del procedimento per valutare la pubblica utilità. Perché qual è la pubblica utilità? La pubblica utilità per noi è che la sanità rimanga pubblica non che intervenga un privato a mettere le mani sui nostri servizi. Noi non abbiamo ancora visto nessuno studio serio di fattibilità per quanto riguarda la localizzazione delle aree. Noi sosteniamo che deve rimanere in città, deve rimanere a Villa Mosca e anche l'ASL deve fare lei un progetto, deve lei commissionare uno studio di fattibilità vero e non andare ad inseguire delle proposte di privati che possono essere quelli della Pizzarotti, che possono essere quelle di altre aziende che vengono da Torino e che hanno solo interesse a guadagnare sulla nostra sanità.